Natale, Natale, Natale Trovare un regalo è sempre più difficile Esatto, ci sono un pallone Qualcos'altro? Che cosa hai detto prima? Che deve piacere a tutti Bello, impossibile, ma bello Non conta solo il regalo, conta il pensiero e il regalo Ci vuole un'ispirazione Non è che non vada, grazie Cosa ne pensi? Ho già detto, un pallone Prendo nota, pallone Forza, tira fuori qualcosa Quanto tempo ci manca? Non molto tempo Siamo messi male Che possiamo fare? Libra! Quest'anno il regalo più bello per tutti lo fa Premium Con Easy Pay vedi cinema, serie tv, calcio E da dicembre una grande novità per bambini e ragazzi Tutto a soli 8 euro al mese per 4 mesi Giusto?